Credo che già nei prossimi giorni la terza dose si estenderà ai cinquantenni, a dirlo il sottosegretario di Stato Andrea Costa, intervenuto oggi a start su SkyTG24, che aggiunge, dobbiamo attendere con fiducia le indicazioni scientifiche e ragionevole pensare che ci sarà un'estensione della platea per i quali sarà prevista la somministrazione. È chiaro che se mi trovasse di fronte a scegliere tra inasprire misure distrittive o mettere l'obbligo vaccinale per alcune categorie, io credo sia più giusta la seconda ipotesi. Non credo sia giusto continuare a far pagare restrizioni a coloro che invece si sono vaccinati, mi sembra un ragionamento di buonsenso. La proroga dello stato d'emergenza sarà una valutazione che faremo a fine anno sulla base del quadro epidemiologico e dei contagi, sottolinea Costa. Intanto siamo di fronte alla quarta ondata di contagio in tutta Italia, con picchi in alcune regioni che rischiano la zona gialla. In campagna, secondo l'ultimo bollettino, sono 493 i casi positivi nelle ultime 24 ore, a fronte di 29.252 test esaminati. Cala l'indice di contagio, come di solito accade dopo il fine settimana, quando diminuisce il numero dei test esaminati. Aumenta invece il numero dei decessi. Negli ospedali sale a 18 il numero dei posti letto occupati nelle terapie intensive e a 281 i ricoveri di degenza. Nella provincia di Napoli, in particolare a Torre del Greco, i casi sono arrivati a 200, quelli in isolamento domiciliare e 13 sono gli ospedalizzati.